Dal bello Scorpion SR110 Il costo di questo scarpone è 449 euro destinato principalmente all'uomo categoria race pista esperta la dotazione tecnica di questo sciatore la gamma 2010-2011 Le specifiche tecniche abbiamo testato una misura 26,5 mondo point i materiali di costruzione, polietere per lo scafo e per il gambetto l'indice di flessibilità 110 la costruzione, overlap design, scafo di 98 mm sistema di chiusura leve, 4 leve micrometriche in alluminio le regolazioni, counting, regolazione dello spoiler del gambetto misure disponibili da 23.0 a 30.0 colore bianco e nero De conclusioni Entrare in questo scarpone da gara non è facile data la durezza delle plastiche e la conformazione delle patelle all'interno il piede è fasciato perfettamente e la trasmissione degli impulsi è ottimale da F1 Consigli d'uso Astenersi sciatori intermedi non competitivi, amanti del relax e del comfort questa scarpa è per professionisti motivati, allenati estremamente esigenti fatto di sensibilità e trasmissione Grazie 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 Grazie